Direttore, inevitabilmente anche noi sul territorio occidentano ci troviamo a prepararci per fronteggiare quello che è il momento legato a questo allarme coronavirus. Abbiamo visto ieri mattina anche su richiesta della direzione sanitaria che la misericordia ha montato una tenda dinanzi al pronto soccorso. Ci stiamo preparando o non siamo impreparati? Non siamo impreparati perché ci stiamo preparando dal primo momento in cui sono verificati i primi casi, sono state le prime direttive ministeriali della regione perché noi abbiamo già attivato da tempo dei percorsi per fronteggiare questo fenomeno straordinario e particolare. C'è da dire che innanzitutto bisogna rassicurare la gente, le persone e le popolazioni perché credo che al di là della pericolosità della patologia, l'aspetto più pericoloso è il caos, e quindi è la paura che questo commette e le persone a sbagliare e ad indurre in altri errori e a creare delle situazioni non gestibili. Quindi è necessario il supporto da parte di tutti quanti. Possiamo approfittare di questa sua intervista. Come comportarsi? L'ospedale c'è, i medici sono a disposizione, però quali i comportamenti da seguire nel momento in cui si dovesse avere un dubbio? Il comportamento è quello che è stato messo in atto con le influenze. Va attuato gli stessi percorsi. Innanzitutto i pazienti non debbono venire in ospedale, persone che hanno influenza, sindrome respiratorie, tosse. La prima cosa si debbono rivolgere i medici di base, di famiglia, che sanno benissimo come trattarli, sono bravi, che si preoccuperà innanzitutto di inviare tramite il 118 solo i casi necessari, i ritenuti gravi, che arriveranno da noi e saranno accolti in quella tenda. Perché? Perché uno dei pericoli che possiamo avere è che ci possa essere un afflusso non controllato e non controllabile per cui possa determinare dei problemi all'interno dell'ospedale, al personale dell'ospedale. Quindi capirete bene che cosa potrebbe e dovrebbe succedere. Significa allontanare del personale e chiudere gli ospedali. Questo è il rischio che noi vogliamo evitare assolutamente. Perché voglio dire, è vero il coronavirus e i problemi, le malattie c'è, ma noi abbiamo tante patologie da dover fronteggiare che sono di gran lunga, il paragone è inesistente, per cui innanzitutto questo ospedale, come tutti quanti gli ospedali, gli altri ospedali, debbono continuare ad assicurare le prestazioni per i pazienti ammalati, per i pazienti che hanno necessità di venire in ospedale e di essere curati. Questo è il nostro obiettivo e quindi noi ci stiamo ponendo ad affrontare questa emergenza tenendo conto innanzitutto di questo, di preservare le attività che sono in esse. Perché il vero problema diventerebbe questo, nel momento in cui noi andiamo a ridurre, per situazioni varie, per quello che ho detto prima, a ridurre delle prestazioni, creeremo un danno davvero impressionante agli ammalati, ai pazienti. Già oggi noi, come sempre, spesso in alcune parti, medicina, medicina di urgenza, malattie infettive, noi non abbiamo posti a sufficiente perché dobbiamo ricorrere a dei posti aggiunti, ad appoggiare in altre parti pur di dare l'assistenza dovuta ai nostri pazienti per non trasferirli verso altri ospedali. Quindi abbiamo già questo problema di base. Quindi la strategia è quella di creare un muro tra l'ospedale e questi pazienti che si rivolgono, ripeto, quando meno possibile debbono venire in ospedale e soprattutto venirci con la macchina, creerebbero dei problemi seri. E quindi la prima cosa è la cosa essenziale di rivolgersi al proprio medico purante che sa benissimo come trattarli, che quando è possibile li continuerà a trattare a casa e solo in casi eccezionali perché poi sappiamo bene che è solo una minima percentuale che avrà bisogno poi di essere ospedalizzati di questi pazienti perché di fatto è un'influenza anche se il virus non è conosciuto ancora per bene, però l'andamento è quello influenzale. Il suggerimento non incolfare, insomma il pronto soccorso? Assolutamente no, perché creeremo dei danni all'ospedale e quindi andremo a creare dei problemi a chi poi veramente ha bisogno di essere ospedalizzato. Questo è un caso accertato in provincia di Salerno, questo lo ribadiamo, stiamo lavorando sulla prevenzione per dare anche poi tutti quelli che sono i consigli utili, ma in questi giorni avete ricevuto richieste di aiuto, persone che comunque erano preoccupate, sono arrivate qui, avete comunque avuto a che fare con persone che temevano di essere state in qualche modo contagiate? Sicuramente, gli è stato consigliato di tornare a casa, a qualcuno è stato, abbiamo dovuto comunicare al sindaco persone che sono venute, che venivano dalle aree ritenute a rischio, dalle aree rosse, ho fatto la comunicazione al sindaco per procedere poi all'ordinanza dell'isolamento fiduciario domiciliare e quindi questi sono dei provvedimenti che si stanno prendendo, che ormai tutti quanti i comuni, i sindaci hanno già preso. Quindi voglio dire, l'orientamento è questo, cioè la prima fase è quella di tenere i pazienti o chi viene da quelle aree a rischio o chi è stato a contatto con pazienti o con altre persone che poi hanno sviluppato una positività innanzitutto di starsene a casa. Questo è l'elemento essenziale e è la cosa che effettivamente è la cosa più importante, più utile a prevenire e a curare questi tipi di infezioni, perché il rischio è quello di ingolfare, di creare del caos che poi veramente non si riesce più a gestire. Noi, ripeto, abbiamo creato quella tentastruttura proprio per fare in modo che questi pazienti con sintomi respiratori, cioè in effetti noi ci siamo preparati a gestire gli stati influenzali, gestendo bene gli stati influenzali, noi gestiamo bene anche questi problemi legati al virus, al coronavirus e per cui in quella tenda verranno ricevuti i pazienti con sintomi respiratori che poi gli sarà consigliato per l'80% di tornarsene a casa oppure saranno messi in osservazione in ambienti dedicati esterno all'ospedale, che avrà un percorso esterno all'ospedale, non tramite il pronto soccorso dove saranno in osservazione, seguiti dagli infettivologi, per cui poi si deciderà di rimandarli a casa oppure di procedere al loro ricovero. Tutto qua. È più semplice di quello che noi la stiamo facendo. Il problema vero è proprio quello del caos, più che si sta generando.